Misericordia per chi sbaglia Figlia mia, il vero cristiano è severo solo con se stesso La carità di Cristo che muove il suo cuore lo rende desideroso di farsi tutto a tutti per guadagnare tutti a Dio ma lo rende al tempo stesso misericordioso verso chi sbaglia Non giustifica il male, ma il peccatore a cui fa dono della sua preghiera e dei suoi sacrifici Conoscendo la debolezza umana e sapendo quante volte lui pure è caduto ha sempre parole di pietà e di incoraggiamento per tutti perché possano evitare il male e fare il bene Il cristiano non è il cieco che guida un altro cieco per cui tutti e due possono cadere nella fossa Egli chiede luce e forza dall'alto e con umiltà e serenità agisce per il bene di tutti per la gloria di Dio Non giustifica i propri errori, ma riconosce i propri limiti e sa che senza un aiuto continuo del Signore potrebbe cadere in errori anche più gravi Il cristiano è sincero con se stesso e non esita a guardarsi a fondo per vedere l'origine dei propri difetti e toglierli dalla radice Mette la propria esperienza a servizio degli altri senza pretendere che essi si comportino allo stesso modo e lo fa con parole benevole e saggi consigli utili al bene comune Grazie 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 Grazie